amici di a tu per tu ben trovati siamo rientrati qui in studio avete ascoltato bravissimi andrea e federica io vi ringrazio sempre per a corpa per accompagnarmi in questo viaggio bellissimo io ringrazio e non l'ho fatto prima me ne scuso tutti i tecnici straordinari peraltro una banda di ragazzi terribili bravissimi da luca stefano a raffaele carmine tutti quanti straordinari davvero eccezionali salvatore capitanati da un ex ragazzo ma sempre terribile il mio grande regista mario albano che ogni settimana ci aiuta a mandare in onda questa trasmissione su gt channel e più n fatti dovuti ringraziamenti lucia fortini abbiamo parlato un po del del passato no e anche del presente evidentemente però usciamo un attimo dal tema dal tema covid perché qualche settimana fa il ministro degli interni luciana lamorgese è venuta a napoli a firmare un patto per la sicurezza molto importante la presenza del 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 prefetto e del sindaco manfredi il presidente di luca è un patto molto importante perché in quella conferenza stampa a palazzo della prefettura ministro lamorgese ha parlato anche di dispersione scolastica sembrerebbe no una cosa che non c'entra con con il ministero del della dottoressa lamorgese invece c'entra e come perché naturalmente il tema della sicurezza urbana nelle realtà diciamo meridionali e non solo perché non è solo un tema del mezzogiorno ma qui purtroppo il tasso di dispersione scolastica molto alto si intreccia col tema della sicurezza ce ne parli ma anche rispetto a questo bisognerebbe fare un distinguo perché molti parlano di dispersione scolastica non ha ragion veduta quando tu parli di dispersione scolastica parli del tasso di persone tra i 16 e i 25 anni che non hanno ancora acquisito un titolo almeno triennale superiore alla licenza media perché dico questo e poi invece c'è l'abbandono scolastico e molti ne parlano c'è ragazzi che non frequentano frequentano saltuariamente la scuola perché lo dico perché ci sono una serie di programmi che noi abbiamo finanziato attraverso la regione campania poco fa ho parlato per esempio di scuola viva quindi l'apertura pomeridiana della scuola che sicuramente sono utili per il contrasto all'abbandono scolastico tieni una scuola aperta la fai diventare in qualche maniera motore di sviluppo per un territorio cerchi di coinvolgere le associazioni che operano in un determinato contesto ovviamente questo non ti fa abbassare il tasso di dispersione scolastica per questo la regione ha immaginato una programmazione che a 360 gradi cioè da una parte potenziare quelli che sono gli strumenti per dare una mano ai nostri ragazzi a stare all'interno delle scuole in maniera più comoda è evidente che ci sono alcuni ragazzi che casomai faticano con l'inglese piuttosto che con la matematica mentre se tu dai la possibilità di fare corsi di teatro piuttosto che sport all'interno delle strutture scolastiche casomai ci vanno più volentieri e poi però potenziare un settore che forse è stato poco attenzionato fino ad ora e cioè quello dell'IFP l'istruzione e formazione professionale di modo da portare a qualifica i nostri ragazzi proprio oggi è stata approvata una delibera di giunta che stanzia ulteriori 10 milioni e mezzo per appunto far scorrere una serie di gradatori e dare la possibilità alle scuole di portare a qualifica quindi si tratta di una qualificazione professionale da dare ai nostri ragazzi basta questo no non basta perché spesso i ragazzi non frequentano la scuola o non la frequentano con particolare profitto perché hanno per esempio delle famiglie che non vedono nella scuola una risposta se un ragazzo deve frequentare la scuola e pensa che una volta diplomato non troverà lavoro non troverà opportunità è evidente che diventa difficile immaginare di motivare quel ragazzo per farlo studiare per questo dico che noi possiamo mettere sicuramente in campo una serie di strumenti c'è poi un approccio culturale che però non è facile da modificare per questo io credo che sia giusto sia l'aiuto che il cardinale battaglia ha come dire lanciato alle istituzioni ma in generale a tutte le associazioni il terzo settore le istituzioni perché è chiaro che si debba lavorare insieme si debba lavorare in sinergia ed è chiaro che poi la scuola sia fondamentale il pezzo proprio dell'istruzione della formazione sia fondamentale anche per la sicurezza perché è ovvio che se tu vuoi un territorio che sia sicuro devi dare anche una serie di strumenti alle persone per poter poi decidere della propria vita non è naturalmente una questione che tu puoi affrontare in poco tempo e risolvere naturalmente nell'immediato è un percorso che si deve però sicuramente costruire insieme è un percorso si deve costruire insieme ci sono tanti progetti sui quali tu stai lavorando e certamente il tema della cosiddetta alternanza scuola lavoro è un tema importante abbiamo visto tristemente ma naturalmente questo non c'entra nulla con la misura che qualche qualche giorno fa un ragazzo friuli è morto all'ultimo giorno di stage sappiamo che ovviamente quello che tu dici è verissimo soprattutto in questa realtà quali sono però le misure che ovviamente in sinergia perché è chiaro che la regione non può far tutto non è che la regione è un ufficio di collocamento quindi deve formare contribuire a formare tramite gli strumenti però poi c'è il tema dello sbocco lavorativo qua mancano le opportunità e allora come si costruisce secondo te un circuito virtuoso affinché poi questi ragazzi possano tornare a credere loro e le loro famiglie che effettivamente il tema dell'istruzione della formazione è fondamentale per potersi qualificare ma guarda rispetto a quello che dicevi in realtà io credo per esempio che lo strumento dell'alternanza scuola lavoro che ora si chiama pcto tra l'altro il ragazzo era con contratto di apprendistato all'interno dell'azienda quindi non aveva assolutamente a che fare con la ex alternanza scuola lavoro è invece uno strumento che secondo me andrebbe potenziato perché rispetto a quello che dicevo prima se un ragazzo crede che la scuola non gli darà l'opportunità di lavorare o vede comunque la scuola come qualcosa di molto lontano rispetto al proprio inserimento lavorativo probabilmente sarà poco invogliato a studiare e tra l'altro io credo che se è vero che la scuola deve servire per formarti come persona per formare quella capacità critica che poi ti consente di capire quello che ti accade intorno credo che non sia sbagliato anche che ti possa avvicinare al mondo del lavoro perché poi il lavoro ti dà la possibilità naturalmente di essere libero di vivere in maniera libera quella che è la tua vita per cui io credo che potenziare questa questa possibilità vada assolutamente nella direzione giusta alla fine quando noi cerchiamo di sostenere dei percorsi di istruzione e formazione professionale lo facciamo naturalmente perché diamo la possibilità dei ragazzi che casomai nella teoria non trovano un particolare interesse la possibilità però di cimentarsi con qualcosa di concreto che possa dare anche il senso e l'opportunità da cogliere poi per il futuro tra l'altro la regione è proprio il mio assessorato sta anche investendo moltissimo sugli it s l'istruzione tecnico superiore perché abbiamo notato la germania in realtà è stata sicuramente apripista che potenziando quel segmento e creando comunque davvero un rapporto solido tra il sistema di istruzione e formazione quindi scuola ente di formazione il sistema universitario e le imprese noi possiamo davvero creare una formazione cucita sulla persona e sulle aziende che poi devono assumere e questi sono percorsi che danno la possibilità di immediato inserimento all 85 per cento dei diplomati naturalmente parliamo comunque di percorsi post diploma entro un anno dal conseguimento del titolo quindi potenziare praticamente quel segmento che ti consente appunto di avvicinare il mondo della formazione al mondo del lavoro credo che sia assolutamente una grande opportunità per i nostri ragazzi si è una straordinaria opportunità anche perché io lo dico sempre non è che possiamo immaginare una società dico una battuta di influenzere di tick tocker cioè qua ci sono alcuni mestieri che si stanno disperdendo c'è una richiesta importante dal mondo delle imprese di avere anche una serie di figure professionalmente qualificate e manca bisogna tornare ad incrociare quella che keynes definiva appunto la comparazione fra la domanda e l'offerta perché spesso capita che ci sono molte offerte di lavoro ma manca manca la disponibilità e questo è un aspetto molto importante questo lavoro che state facendo con gli istituti tecnici credo che sia del resto insomma la germania ci può insegnare anche da questo profilo come si può costruire una nuova classe dirigente che non è fatta soltanto di manager o di amministratori pubblici ma è fatta anche di persone che lavorano e di persone che lavorano ce ne sono anche in questo studio a parte i nostri bravissimi tecnici già citati a cui si aggiunge un altro grande indefesso lavoratore che il nostro produttore Tony Florio è un settore colpito cara Lucia come sai è quello dello spettacolo ci sono tanti artisti molto bravi parliamo magari anche di questo poi dopo se ti fa piacere perché penso che la musica l'arte la cultura rientrano a pieno titolo nel segmento dell'istruzione io sono molto contento di averli qua l'ho già detto prima perché appunto Federica e Andrea mi ricordano di quanto è importante la musica nelle nostre vite anche per te cara Lucia c'è una bella dedica che i nostri due musici come diceva Toto ti hanno preparato a voi ragazzi e poi stiamo in pubblicità e più ti penso e più mi manchi ti vedo nei miei occhi stanchi anch'io vorrei star lì con te stringo il coscino sei qui vicino è notte fonda e sei lontano ho il vuoto e un torno senza te il sole più non c'è sono triste e sconsolata come non sono stata mai senza te senza te e se per caso non potessi rivederti io so già che farei un'altra non